buongiorno a tutti allora proseguiamo il nostro racconto del mondiale di sci con il super g femminile del 19 dicembre 2018 in val gardena una gara molto molto bella molto molto combattuta quindi andiamo veloci veloci a vedere come è andata la prima a scendere è la ravensburg e con il tempo di 1 32 30 spera di riuscire che ne so a stare sul podio vedremo ne devono scendere altri 51 però la gara sembrerebbe buona con il pettorale 3 scende la nostra Elena Curtoni ma purtroppo è solo terza con un distacco di un secondo e 0 1 un po' troppo speriamo che almeno riesca ad andare lo stesso a punti dopo quattro atlete che non riescono comunque a stare davanti alla alla ravensburg tocca alla piccolina la smidofer uno scricciolo biondo di appena un metro e 57 per 57 chili che riesce comunque a difendersi molto bene nelle discipline veloci e passa in testa con 38 centesimi di vantaggio ma ne devono scendere ancora 47 con il pettorale 8 scende la nostra Nadia Fanchini speriamo riesca a fare meglio della sua compagna per riuscire a fare meglio ci riesce ma è solo sesta a un secondo e 02 dalla austriaca scende con il pettorale 9 la Weirater e fa incredibile ma vero lo stesso tempo della smidofer quindi abbiamo addirittura due sciatrici al primo posto incredibile non capita spesso quindi dopo le prime dieci sciatrici scese la classifica è la seguente prima smidofer e Weirater a pari merito a 1 31 92 terza per il momento a 38 centesimi la ravensburg quarta la Ledeca campionessa tra l'altro in carica in super G e campionessa anche di snowboard quinta la Tipler sesta la Allen settima la Fanchini ottava la Super nona la Gisin e ahimè ultima decima la nostra Curtoni scende con il pettorale 11 la Stueck e si prende il primo posto per soli 5 centesimi è stata bravissima perché comunque prima ma poteva andare molto meglio perché ha fatto qualche errorino di troppo qua e là ha perso qualche decimino qua e là e speriamo non gli costino cari questi piccoli errori per ora però è prima tocca la nostra Federica Brignone pettorale 17 ma ahimè è solo 14esima ha un secondo e 15 peccato anche per lei dopo la discesa di altre 20 atlete la gara è bellissima però per il momento la Stueck la Weirater e la smidofer restano sul podio anche se per poco perché al quarto posto abbiamo la Fleury che è a 6 centesimi dalla Stueck e quindi ha un solo centesimo dalla coppiata Weirater smidofer che sono seconde quindi per un centesimo se no avremmo potuto avere addirittura tre sciatrici al secondo posto a 5 centesimi dalla prima invece ahimè la Fleury per un centesimo si deve prendere il quarto posto quinta la Mobin che l'ha 24 centesimi sesta la Rebensburg a 43 centesimi settima la Veniera 45 centesimi ottava la Sibenhofer a 69 centesimi nona la Ledeca a 76 e decima la Tipler a 77 quindi vedete tutte molto vicine l'une dalle altre con il pettorale 23 scende la nostra Anna Hofer che ci illude perché per tre quarti di gara era lì vicina alle prime 10 tranquillamente poteva forse entrare anche nelle prime 5 ma nell'ultimo pezzettino di di gara si prende un botto di ritardo e termina a 1 seconda e 36 solo diciottesima con il pettorale 24 scende la nostra Marta Bassino ma ahimè una gara veramente da dimenticare arriva ultima con due secondi e 34 se non sbaglio di ritardo comunque oltre due secondi di ritardo quindi ventiquattresima difficilmente riuscirà a rimanere nelle 30 visto che ne devono scendere ancora 28 quindi con il pettorale 25 scende la Grenier ma ahimè è la prima ragazza che non termina la gara e addirittura anche un attimino rischiato perché ha spigolato stava andando verso le reti è rimasta in piedi è riuscita a dare il colpettino e passare accanto alle reti senza andargli addosso le reti servono per salvaguardare gli atleti non finire magari in un burrone però contemporaneamente andargli addosso non è mai tanto simpatico quindi meglio che sia rimasta in piedi con il pettorale 26 scende la nostra Nicole de Lago ci speravamo tutti ma ahimè è solo 14esima a un secondo e 08 di ritardo con il pettorale 29 ultima italiana a scendere la nostra Franceschina Marsaglia è incredibile ma vero sfruttando anche un raggettino di sole che spunta nella pista riesce a prendersi il sesto posto a soli 29 centesimi dalla prima un tempo incredibile perché una volta con 29 centesimi potevi stare anche addirittura sul podio invece in una gara così stringata così lottata al centesimo si deve accontentare del sesto posto che comunque è un ottimo risultato detto questo c'è da segnalare solo con il pettorale 34 se non sbaglio la Christina Hager che riesce a entrare nelle 10 perché sfrutta anche lei il sole ma per il resto la classifica rimane invariata le prime tre sono restano quelle anzi le prime due sti tre che comunque prima seconda seconda restano quelle e quindi la classifica finale è la seguente prima la Stueck seconda la Smidoffer seconda la Weirater quarta la Fleury quinta la Movinkel sesta la nostra Marsaglia bravissima settima la Rebensburg ottava la Venier nona la Sibenhofer e decima appunto la Hager adesso vedo se riesco a farvi vedere le prime tre stop un attimo eccole qui le prime tre come potete vedere in mezzo c'è la la simpatica Ilka Stueck e poi accanto questa è la piccolina e poi c'è l'altra tac Lascia